La Repubblica delle Idee arriva a Napoli dal 5 all'8 giugno dopo le edizioni di Bologna e Firenze. Più di 80 agli appuntamenti previsti tra Palazzo Reale, Piazza del Gesù e Teatro San Carlo sul tema Riscrivere il Paese, scelto per promuovere un impegno culturale collettivo verso la ripresa dopo gli anni della crisi. Al teatrino di Corte oggi il primo dialogo sul Forum delle Culture vede protagonista il sindaco De Magistris, l'assessore alla cultura Nino Daniele, con la direttrice della Fondazione Forum di Barcellona, Mireia Belil, ed il neocommissario Daniele Pitteri. Il gruppo Repubblica che sceglie Napoli dopo Bologna e Firenze per fare questa iniziativa straordinaria di profilo internazionale, quattro giorni in cui si confrontano le idee, in cui la cultura è al centro del dibattito. Napoli ancora una volta a crocevia internazionale, quindi tantissime persone, tantissime personalità, tantissimi turisti. Siamo veramente soddisfatti anche che il Forum delle Culture entri finalmente nel vivo. Il festival giunge alla terza edizione e in quattro giorni coinvolgerà il pubblico in letture, dibattiti, laboratori, mostre e spettacoli ad ingresso gratuito, con la partecipazione di circa 200 ospiti. Gli spettatori avranno modo di prendere contatto con i giornalisti di Repubblica ed assistere agli incontri con artisti, filosofi, politici ed economisti sui grandi temi dell'attualità italiana e internazionale. Attesa per gli incontri al Teatro San Carlo, il direttore Ezio Mauro con il premier Renzi sabato mattina e Eugenio Scalfari con Roberto Benigni domenica alle 12 e John Turturro e Tony Servillo sabato alle 22.30.